Buongiorno amici di Youtube, oggi sono qui a Rocca Bruna, provincia di Cuno, per la Fiera di Valle. Ci sono molti animali in esposizione, queste sono vacche Highlander, originari dalla Scozia. I paesi freddi hanno un pelo lungo lungo per ripararsi dal freddo. Come potete vedere dalla fotografia sono animali che resistono anche molto bene al freddo, con il suo folto, pelo e manto. Hanno delle corna molto imponenti e sviluppate. Qui abbiamo un greggio di pecore con i suoi agnellini, guardate che teneri che sono. Qui abbiamo un cane da guardia alle sue pecore, non so se è un maremmano o un bergamasco. Ho provato a chiamarlo ma avvaia, è molto restio nei miei confronti. Questo è il becco, il maschio delle capre. Il becco, il becco, il becco. Ciao! Ciao! Ehi! Aiuto! Ha spinto! Ho fatto una mica! Sono le caprette enanee. Questo è un montone, guardate che corna arrotolate che ha. Non mi ha fatto uno, guardate che c'è. Non mi dai, non mi dai. Non mi dai. Giuseppe, a loro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.